Il progetto TESI nasce da una nostra collaborazione con una multinazionale italo-giaponese la quale ci ha chiesto se era possibile utilizzare la tecnologia per superire i danni creati da questo insetto, lo scafoideus titanus. Quindi il nostro lavoro si occupa di fare campionamento e raccolta in vigneto e verificare se queste tecniche innovative che sono dei dispositivi vibrazionali sono in grado di confondere e mantenere lontano questo insetto dai vigneti per evitare che crei danni alla viticoltura italiana e mondiale.